Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale sono Joe Upa17 e oggi siamo tornati su Splatoon per un nuovissimo episodio ok ragazzi come promesso stasera giovedì 18 sono online per giocare con voi quindi spero di beccarvi online direi di non perdere altro tempo iniziare subito una partita amichevole come potete vedere dietro di me gli scenari stasera sono centro commerciale e magazzino quindi direi di non perdere altro tempo e andiamo subito a giocare ok ragazzi perfetto eccoci qua per una nuova mischia mollusca centro commerciale perfetto ragazzi questa qui è la mia squadra questi qui sono i miei avversari iniziamo subito ok come arma ho scelto il maker d'assalto non penso di cambiarla ragazzi e penso di tenere questa qua per tutta la sera almeno così se qualcuno di voi mi becca non rischiamo di perderci perché purtroppo Nintendo deve un attimo sistemare il fatto che se lascio una lobby poi c'è il rischio che magari se sto giocando con i miei amici non li becco più ok diamo una colorata nel frattempo qua dai che ho quasi sbloccato il potere speciale perfetto allora guardate lanciamo un po' di bombe che davanti ho anche visto ok perché avevo visto un rullo nemico eccolo caspita eccolo ok mi stanno anche attaccando alle spalle attenzione ah caspita mi ha preso chi è questo tizio qua non chiedetemi come si pronuncia il suo nome perché non riesco a capirlo ragazzi probabilmente è asiatico ok allora intanto stanno dominando ragazzi è pazzesco stanno dominando qui è tutto giallo vediamo una ricolorata veloce lì ok perfetto allora procediamo da questa parte qui qualche mio compagno di squadra è passato attenzione mi ha visto forse no caspita mi ha splattato lui o lei in questo caso una lei ragazzi allora sta passando da questa parte di qua adesso la rincrocio e la ribecchiamo ok c'è anche un mio compagno di squadra vai te che rullo vai io ti seguo ok 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 saltiamo in mezzo all'arena ah no 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 caspita la bolla non mi ero accorto che aveva la bolla di protezione ok 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 allora guardate raggiungo il mio compagno di squadra qua attenzione magari lo becchiamo non so se se n'è andato eh forse l'ho preso ragazzi però è riuscito a sopravvivere mi sa ok sta arrivando adesso lo becchiamo eh grande grande un mio compagno di squadra l'ha seguito l'abbiamo ucciso ok forse si sono splattati a vicenda non ho capito no caspita è subito tornato all'attacco è sempre lo stesso di prima ragazzi è sempre lo stesso di prima ok diamo una mano ai miei compagni in mezzo all'arena attenzione pastito rullo ok no è sempre lo stesso che mi è splattato di nuovo ok sono sempre loro sono sempre loro intanto stanno riconquistando terreno andiamo di qua adesso mi sa che arrivano giù da questa parte di qua ok splattato andiamo velocemente qua perchè ha ricolorato tutto ok tempo terminato ragazzi non so se riusciamo a portarla a casa eh non lo so vediamo no c'è tantissimo verde c'è tantissimo verde infatti perdiamo 54-37 va bene non importa pazienza grandi comunque ragazzi ok siamo ad una prossima partita ok eccoci qua per un'altra mischia mollusca torniamo nel centro commerciale ragazzi perfetto più o meno siamo sempre gli stessi forse si è giunto qualcuno di nuovo hanno mischiato un attimo le squadre ecco sta cosa è da apprezzare praticamente tu inizi magari con dei compagni di squadra e poi magari nella partita dopo i tuoi compagni di squadra diventano gli avversari quindi magari sai già come giocano e puoi prendere le dovute contro misure ok intanto io ho già finito l'inchiostro purtroppo non posso comportarmi come rullo mi sa che là in fondo qualcuno mi sta aspettando infatti ah si beccati questa ok adesso lo sgamiamo oh ti ho sgamato perfetto bombe bombe a volontà bombe a volontà no sono caduto giù ragazzi sono caduto nell'acqua ok niente purtroppo sono morto intanto abbiamo fatto fuori qualcuno o almeno li abbiamo disturbati vai 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 veloce come il vento veloce come il vento diamo una colorata anche qua qui c'è già del caspita era ok un rullo ok è sempre la stessa tizia di prima ragazzi me l'hanno sempre messa di nuovo cioè me l'hanno messa di nuovo contro ok intanto hanno tirato due strisciate di blu qua che copriamo subito non voglio blu dalla mia parte andiamo su andiamo su intanto dai 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 veloce ho visto un rullo là ho visto un rullo là ah caspita goma qua al cecchino quindi dobbiamo stare attenti intanto ci hanno preso alle spalle ragazzi ci hanno preso alle spalle hanno colorato tutto di blu qua dietro no caspita odio quando si mettono la bolla ragazzi odio quando si mettono la bolla praticamente diventano tipo immortali impossibile fermarli no caspita mi ha splattato eppure lo stavo prendendo già di mira ok uccidilo 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 dai dai veloce veloce te che è il rullo vai lì che copri un bel po' ok perfetto preso ok te ricolora qua io vado di là madonna ragazzi ci ha riempito di colore bolla contro bolla ragazzi bolla contro bolla scappi eh scappi eh no caspita rullo zia pina ci ha splattati in due meno male che il mio compagno di squadra è riuscito a colpirlo allora facciamo una roba andiamo a disturbarli dalla loro parte anche se oramai praticamente manca pochissimo ok oramai mancano dieci secondi ragazzi però la vedo veramente dura la vedo veramente dura perché ok uno ed è finita ragazzi ci hanno schiacciati ragazzi ci hanno veramente schiacciati guardati e hanno già vinto l'oro gatto hanno già vinto l'oro tranquillo 50 a 32 ragazzi pazzesco pazzesco ci hanno schiacciati dalla nostra parte ok direi di passare al prossimo match perfetto ragazzi un'altra mischia mollusca di nuovo nella stessa mappa sempre centro commerciale per la terza volta di fila hanno mischiato di nuovo le squadre qualcuno se n'è andato qualcuno è rimasto allora stavolta siamo gialli giallo oro ragazzi quindi non possiamo fallire il giallo oro dei vincenti speriamo ok stiamo attenti a non finire di nuovo l'inchiostro perché purtroppo con il fucile non puoi comportarti come se avessi un tipo un rullo quindi non devi star lì a essere tanto preciso devi più che altro sparare abbiamo sbloccato le bombe allora ci apriamo la strada intanto ne lancio un po' là in mezzo anche per far paura a loro ok ho finito tutto ah caspita è venuto su non me l'aspettavo ragazzi non me l'aspettavo no stavolta voglio vincere ragazzi stavolta voglio vincere più che altro non dipende solo da me ma anche dai miei compagni di squadra rullo è andato giù mi sa di qua non lo vedo ok ricoloriamo subito dov'è passato perfetto perfetto ah caspita ho finito ok 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 diamo una colorata di giallo mi sa che ho preso qualcuno ragazzi ma che caspita sta succedendo no caspita ok no per fortuna non sono caduto giù per fortuna non sono caduto giù ok facciamo una roba andiamo qua ok rullo no caspita mi ha splattato però sono riuscito a fermarlo ok sono riuscito a fermarlo spero che i miei compagni di squadra mi seguano dove ho colorato tutto di giallo dai 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 torniamo subito là torniamo subito là veloci come il vento ok senza paura ci buttiamo in mezzo all'arena ok quello lì è uno dei miei caspita il rullo da dietro non me lo aspettavo il rullo da dietro non me lo aspettavo ok c'è uno dei miei là lo raggiungo subito lo raggiungo subito vai 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 veloce 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 ok è tutta roba mia tutta roba mia dai 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 ok alle spalle eccolo caspita mi ha splattato però sono riuscito a fermarlo comunque sono riuscito a fermarlo dai ragazzi dai 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 veloci 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 andiamo a fermarli ho visto qualcuno che sta cercando di passare di qua ok caspita il cecchino il cecchino ragazzi col calamarepid no no ci stanno schiacciando da matti ci stanno schiacciando da matti ragazzi sono ovunque accidenti mi ha splattato di nuovo però l'ho ucciso niente niente stasera non gira ragazzi stasera non gira no ma han vinto di nuovo loro han vinto di nuovo loro 59 a 26 è pazzesco ragazzi pazzesco ok allora direi di passare ad una prossima partita però ragazzi nel frattempo cambio anche arma perfetto ragazzi una nuova mischia mollusca finalmente cambiamo arena andiamo nel magazzino questa qui è la mia squadra questi qui sono i miei avversari ok perfetto dai speriamo di vincerla almeno questa qua almeno questa qua speriamo di portarla a casa dai dai andiamo di prepotenza in avanti prima che arrivino loro attenzione attenzione mi ha preso di mira ok ci siamo splattati a vicenda pazienza pazienza lei ha un calibro 2000 dx sarebbe tipo la come si dice l'elite la versione elite della sua arma ok perfetto c'è un po' di blu l'ha morto qualcuno però vedo un blu che sta andando avanti adesso lo sgamiamo eccolo perfetto no mi ha splattato caspite sempre lei sempre lei sempre Bettina sempre Bettina ok andiamo veloci come il vento qualcuno è passato di qua no allora passo io beh te che vai il rullo dai vai vai con sto rullo vai ok velocemente ci riportiamo al centro dell'arena ok ce n'è uno qua ragazzi ce n'era uno qua almeno eccolo no prima che potessi sparire ragazzi niente riuscito a uccidermi con lo splasher delete ok i blu stanno leggermente dominando ok adesso stanno dominando perché ho colorato tutto di blu lancia una bomba là in mezzo magari becco qualcuno attenzione che ci stanno attaccando alle spalle ci stanno attaccando alle spalle attenzione riuscita ad abbattermi Bettina stavolta si è vendicata dai ragazzi dai altri tornadi blu ok beccati questa attenzione ah caspita mi ha splattato niente i blu stanno leggermente dominando abbiamo delle serie difficoltà a riorganizzarci manca meno di un minuto alla fine quindi sbrighiamoci qui ricoloro io tranquilla tu coprimi perfetto allora mi ci butto qua in mezzo qua e qua eccolo ho visto attenzione al pennello ok 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 vai 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 eccolo eccola ai 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 eh c'era il blu ero nel blu ragazzi non riuscivo più a muovermi non riuscivo più a muovermi ma non abbiamo nessuno che può mettere magari può attivare un tornado qualcosa che loro ne hanno attivati tre o quattro ok via sta roba mancano pochi secondi alla fine sette sei cinque quattro tre due uno ok vediamo com'è finita eh non lo so ragazzi non lo so vedo tanto blu vedo tanto blu infatti cinquanta quattro a trentanove niente ragazzi stasera non riesco a portarne a casa una è pazzesco è pazzè ok allora passiamo ad una prossima partita ok ragazzi eccoci tornati nel magazzino per un'altra mischia mollusca iniziamo subito speriamo di essere più fortunati stavolta dobbiamo ancora portare a casa una vittoria stasera non riusciamo per il momento continuano sempre a vincere loro ok ok stavolta siamo viola contro verdini allora io passerei di qua recuperiamo un attimo un po' di inchiostro buttiamo una bomba buonanotte buttiamo non ho più neanche l'inchiostro necessario per sparare per terra attenzione 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 mi hanno preso di mira e infatti mi hanno splattato ragazzi ok non chiedetemi chi mi ha splattato perché non lo so veramente perfetto allora andiamo 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 ok ok dai ricoloriamo tutto di viola mi sa che hanno anche un cecchino loro attenzione un turbine ok perfetto siamo riusciti a evitarlo ok passiamo là dietro che non è ancora passato nessuno allora mi sa che stiamo leggermente dominando per il momento dai 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 che lo sgamo no caspita mi ha preso lui Bettina sempre lei sempre lei signori sempre lei attenzione sta diventando la mia nemica numero uno ok guardate qui mi va ecco stavolta no ci siamo splattati però mi sono vendicato ragazzi sono riuscito a fermarla ah ecco perché mi ha ucciso ho usato una bomba a ricerca per quello va bene non importa siamo comunque riusciti a fermarla adesso riprendo possesso di questa zona via il verdino da qua non voglio vedere verdini niente di niente ok ok colora 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 andiamo qua e recuperiamo dell'inchiostro ok bella l'idea di recuperare l'inchiostro diciamo nascondendosi nell'inchiostro mutiamo una bomba ragazzi così no no caspita ok ci siamo splattati a vicenda Bettina mi stava cercando ah ma c'è un altro che ha i suoi stessi vestiti eh ragazzi ce n'è un altro che ha i suoi stessi vestiti ok andiamo qua in mezzo oh andiamo a romperli le scatole di qua possiamo qua dietro attenzione una mina non me ne sono accorto ragazzi non me ne sono accorto hanno utilizzato una mina allora attenzione che c'è un verde qua davanti all'area dovrebbe essere forse morto no ancora vivo anzi col cacchio ok mi ha splattato però l'hanno splattato finalmente dai che stiamo andando bene stiamo andando bene ok sono tornato operativo via il verde da qua ok qui hanno già ricolorato mi sa si perfetto grandi ragazzi ricoloriamo bene 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 perfetto attenzione al turbine verde no non ho mai non ho mai abbastanza inchiostro per lanciare tipo le bombe ok ok partita finita vediamo 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 ragazzi sta qua forse la portiamo a casa forse ce la facciamo eh forse eh no mi sa che non ce la facciamo di nuovo e infatti 50 42 niente stasera non ce ne va bene una ragazzi non ce ne va bene una ok allora passiamo ad una prossima partita ok ragazzi eccoci qua per un'altra mischia mollusca stavolta becchiamo di nuovo la mappa del magazzino guardate che armetta che ho qua il mio rullo ok vediamo chi è in squadra con me ok questi qui sono i ragazzi siamo in tre rulli ragazzi se non vinciamo con tre rulli è veramente la vedo veramente dura ragazzi ok allora io vado da questa parte di qua perfetto allora scendiamo qua sotto coloriamo tutto di rosa ah caspita ho finito l'inchiostro ho finito l'inchiostro ok intanto i gialli si stanno dedicando alla zona di là io intanto sto arrivando come non mai ok ho splattato uno splattato l'altro ok sono riuscito a prenderlo al pelo prima che terminasse il potere speciale grazie al consiglio di un mio iscritto ragazzi sono riuscito a capire come utilizzare al meglio il kraken quindi adesso posso uccidere anche i miei avversari anzi dato che siamo su splatoon splattarli ok coloriamo tutto coloriamo tutto direi che stiamo leggermente dominando anche per il fatto che abbiamo tre rulli più che altro quindi per noi è abbastanza facile caspita potevo utilizzare di nuovo il kraken perché il kraken mi sa che non riesci ad abbatterlo col fucile una volta che ti trasformi sei a cavallo se qualcuno di voi sa come fermare il kraken ditemelo pure ragazzi scrivetemelo qua nei commenti ok perfetto stanno arrivando da dietro allora diamo una colorata qua è anche un potere speciale che si attiva abbastanza facilmente guardate sono già di nuovo il kraken allora andiamo a colpire i miei nemici sta arrivando il rullo ok ci siamo splattati in 10.000 ragazzi ci siamo splattati in 10.000 direi che stiamo leggermente dominando il campo di battaglia ok i gialli non riescono a tenerci testa c'è uno che sta andando di lì guardate come lo sgamo perfetto ah ne ho splattati due ragazzi ne ho splattati due prima di morire prima di morire c'è Brandon che si sta nascondendo in mezzo all'inchiostro ragazzi ci sta tendendo delle trappole ok vai Alessandro dai coloriamo tutto mi stanno inseguendo dai ok splattato prima di morire perfetto Joy mi ha splattato però sono riuscito a diciamo a splattarlo a sua volta prima che mi uccidesse ok guardate che roba gli sono passato in mezzo ok splattato via sta roba qua che rompe solo le scatole attenzione uno dei loro ok stanno leggermente dominando nel finale ragazzi stiamo perdendo i terreni conquistati stiamo perdendo i terreni conquistati fermateli fermateli se potete fermateli 3 2 1 no mi sa che han vinto alla fine ragazzi mi sa che hanno vinto alla fine vediamo ok vedo tanto giallo mi sa che han vinto alla fine ragazzi ci han fregati alla fine infatti 52 42 va bene non importa bravi comunque ragazzi ah eravamo 4 rulli addirittura guardate che roba 4 rulli pazzesco 5 addirittura su tutto il campo di battaglia pazzesco ragazzi non mi è mai capitato una squadra fatta solo di rulli perfetto allora direi di passare alla prossima partita ok ragazzi siamo di nuovo nel magazzino per un'altra mischia mollusca ok perfetto siamo sempre 4 rulli anzi 5 stavolta in squadra ne ho soltanto 3 peccato perché stavamo vincendo prima abbiamo perso proprio sullo scadere va bene non importa dai ci rifacciamo in questo match qua stasera non sono molto come caspita ah ce n'era un altro nell'inchiostro ma dimmi te che stava seguendo il rullo suo ottima tattica ottima tattica ok stasera stavo dicendo che il magazzino non è stata la mia mappa fortunata non sono riuscito ancora a vincerne una forse ne ho vinta una sola ragazzi forse e dico forse perché mi sa che non ne ho vinta neanche una allora coloriamo tutto perfetto c'è qualcuno che sta cercando di raggiungermi ok ho finito l'inchiostro c'è un nemico lì adesso lo becco ok splattato vai di kraken vai di kraken vai di kraken abbiamo tutta una verniciata qua aaaah c'è un kraken che mi insegue ragazzi ok no se n'è andato se n'è andato ok attenzione non ci credo ci ha splattati ah ok no ci siamo splattati a vicenda perfetto no pensavo che il tipo là sopra con la mitragliatrice avesse splattato due di noi pazzesco ok allora qui c'è tanto verde adesso copro tutto copro tutto copro tutto ok vai 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 copri 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 c'è troppo verde troppo verde ok qualcuno ha fatto partire un tornado ok ho splattato Elliot che a sua volta ha splattato me allora stiamo leggermente soffrendo l'altra squadra ok qui c'è verde tiriamolo via mi piace di più il blu ragazzi mi piace di più il blu ok questo qui mi sa che non è tanto esperto perché vedo che spara tanto a terra guardate come splattano perfetto uno dei nostri ha splattato un verde che non l'ha neanche visto arrivare ragazzi ok vedo un rullo lì vai ok Elliot di nuovo mi ha fermato ragazzi mi ha fermato di nuovo ok ne abbiamo due in avance coperta io direi che posso rimanere a centro campo o a centro mappa forse è meglio dire ok qui siamo in troppi però se i miei due la si mettono a disturbare i verdi forse riusciamo a portarla a casa portiamola a casa 9 8 7 vedo verde 5 4 3 2 1 ok mi sa che abbiamo vinto noi ragazzi stavolta mi sa che abbiamo vinto noi perché vedo tanto blu perfetto ragazzi 60 a 29 ottima partita beh con 3 rulli ragazzi in squadra non potevo non vincere perfetto ragazzi ok ok perfetto altra esperienza passiamo alla prossima partita ragazzi perfetto eccoci tornati nella mappa del centro commerciale stasera abbiamo giocato un sacco qua ma anche abbastanza nella mappa del magazzino comunque diciamo che il computer ha diviso equamente le due mappe perfetto ok coloriamo tutto di blu ok vai 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 con sto rullo vai 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 ok allora qui attenzione a non diventare dei polpi coloriamo tutto di blu poi banzai ok ce l'abbiamo fatta allora fatemi colorare qua così vado su ok e vado a rompergli le scatole qua adesso sicuramente qualcuno arriverà perché guardando la mappa mi ha visto sicuramente ok eccomi qua uno e uno qua dietro dai 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 oh l'ho splattato ok mi ha beccato ok qualcuno ha utilizzato un razzo perfetto allora andiamo qua speriamo che il mio amico riesca a splattarlo si è riuscito è riuscito perfetto è riuscito a splattarlo ok ok andiamo no caspita mazza che rambo shannon è un rambo mamma mia ok allora andiamo qua che ha colorato tutto di arancione io adesso ricoloro tutto di blu l'arancione ragazzi non mi piace tantissimo preferisco il blu ok qua c'è troppo arancione non riusciamo ad andare su ok ok perfetto nessuno ha colorato questa zona qua allora ripasso io col rullo più che altro anche per rompergli le scatole ragazzi se gli rompiamo le scatole boh facciamo un giro quattorno veloce tanto ho visto qualcuno dei miei che mi sta seguendo ok kraken kraken opla splattato perfetto adesso sicuramente rinascerà lì ok eccoti qua e ti ho subito splattato e ne ho splattato anche un altro ragazzi guardate adesso faccio tanto sicuramente devono devono uscire da lì eccolo eccoli ah caspita se ne sono accorti zia pina mi hanno circondato in tre però ho permesso in questo modo ai miei compagni di squadra di guadagnare un sacco di terreno ragazzi perché adesso non riesco a farvela vedere però la mappa è praticamente tutta blu ok se adesso se la giocano bene possiamo mantenere il vantaggio possiamo mantenere il vantaggio ok qua non c'è bisogno perché tanto vedo già che è abbastanza blu ok ok saltiamo in mezzo qua tagliamo di là qui è tutto arancione non riesco a salire se no ok perfetto qui è arancione quindi ricoloriamo tutto dai 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 direi che stavolta forse abbiamo vinto ragazzi eh forse abbiamo vinto guardate un po' che roba è praticamente tutta blu la mappa perfetto ragazzi 65 a 23 un massacro grandi ragazzi ok torniamo al menu principale per i saluti ok ragazzi stavolta sono rientrato a coloropoli allora direi che possiamo concludere il video qua spero che vi sia piaciuto spero che vi sia piaciuto diciamo questo evento speciale con i fan mi raccomando non perdetevi i prossimi perché sicuramente ce ne saranno altri ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo episodio sempre qui su splatoon alla prossima ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti